Sempre con il sinistro a muovere in avanti, anche se poi il primo fuoco in assoluto ha provato a portarlo con il destino, però sono schermati. Tu cos'hai? Consiglio gli daresti. Guarda, i miei partiti venivano quando i miei partiti, il mezzo può trasformare in qualche modo, ma quando il primo fuoco può cambiare di più. Signora, se non fare l'inizio, non fare l'inizio, non fare l'inizio. Signora, se non fare l'inizio, non fare l'inizio. Grazie. Grazie. Grazie.